Il Coro Grazia dell'Eda di Nuoro, direttore al maestro Paolo Pugioni, ha partecipato al progetto internazionale Heidi Lee canta in tutti i dialetti, promosso dalla cantante Jet Soul di Hong Kong. E' nato un video pubblicato su YouTube che sta imperversando sulla rete. Questa intervista a Franco Mottoi, presidente del Coro Grazia dell'Eda, spiega come nasce il progetto. Allora, è nata quasi casualmente grazie a un amico, tramite un amico che ci ha messo in contatto proprio con Heidi perché voleva continuare appunto il viaggio per l'Italia con questo suo progetto. Lei ha scelto noi perché è piaciuta molto la canzone che le abbiamo proposto e quindi da lì è nato tutto, insomma. Ho prima inviato l'MP3, poi il testo, lei ha studiato perfettamente e poi ci ha raggiunto qui in Sardegna e abbiamo fatto un paio di prove e abbiamo deciso di portare avanti questo progetto. Eravamo entrambi contenti di quello che poteva essere il risultato, insomma, ed è andato avanti così. Allora, abbiamo eseguito Su Redentore nella vecchia Chiesa delle Grazie. Su Redentore è una canzone musicata dal nostro vecchio maestro Gian Paolo Selloni su una poesia di Giovanni Piga. Abbiamo deciso di farla proprio nella vecchia Chiesa delle Grazie perché ci sembrava il luogo piadato a quello che faceva la Trino d'Unione con il Redentore, insomma. Parlare di Nuore e non citare la Chiesa delle Grazie e il Redentore ci sembrava proprio una cosa incompleta. Heidi ovviamente ha sposato a pieno questo progetto e questa nostra idea. Lei è stata soddisfatta e noi siamo soddisfatti perché a nostro giudizio è un bellissimo lavoro che speriamo che la gente apprezzi, insomma. Quando sopprimo sole su mantaro